Abbiamo riscoperto questo legame antico che legava Mogolla a Silvi, tant'è che lui, la sua infanzia, a parte la sua infanzia e giovinezza la trascorsa sulla nostra spiaggia e da qui l'abbiamo contattato, gli abbiamo conferito l'anno scorso la cittadinanza onoraria e da qui l'idea di promuovere questo tipo di evento, di manifestazione quello di dare l'opportunità a tanti giovani autori, giovani artisti di aggiudicarsi questo premio intitolato Ammogol con l'ambizione che abbiamo, quello di far crescere questa manifestazione e renderla a livello nazionale se ci riusciremo magari già dal prossimo anno in modo che chi vincerà questo premio potrà avere accesso al festival più importante che è quello della canzone italiana, il festival di Sanremo e anche un'altra idea, adesso la valuteremo, se è possibile di gemellarci con Sanremo, due città rivierasche con compiti precisi nel rispetto dei propri ruoli per cercare di promuovere appunto la cultura della musica, l'arte della canzone in modo sia da incentivare questo tipo di arte nonché promuovere allo stesso tempo il nostro territorio un territorio sicuramente che vive di turismo legato a Ammogol con il quale lui stesso è dichiarato a un legame particolare, bello anche romantico il primo bacio lui come da lui dichiarato l'ha dato a Silvi ma poi l'anno scorso fu una serata sicuramente indimenticabile anche per tanti silvaroli che si sono rivisti, si sono ritrovati insieme a lui ricordando tanti piccoli episodi vissuti nell'infanzia e lui torna volentieri da noi e cercheremo di sviluppare questo discorso Per quanto riguarda magari la promozione occorrerebbe pensare anche a una struttura per far esibire questi giovani artisti anche in inverno Eh sì, adesso la valuteremo, noi siamo partiti così un attimino in punta di piedi anche perché è un discorso non semplice, occorrono tante energie per fare questo dobbiamo essere bravi e interessare e sensibilizzare quello che può essere l'interesse delle case discografiche che poi il successo sicuramente dipenderà da questo se noi saremo bravi in questo qualche struttura ce l'avremmo pure, soprattutto nel periodo invernale pensiamo alla Casa del Maestro, INAM che magari nel periodo invernale non ne viene usufruito quindi potrebbe essere già una location ideale per fare questa cosa Io penso che dobbiamo avere l'ambizione e il coraggio di osare e noi questo ce l'abbiamo, soprattutto devo ringraziare perché le interviste questa mattina fatte a me ma soprattutto anche all'assessore al turismo Anna Paola Mazzone nonché a quella della cultura Luciana Di Marco che per questo evento hanno lavorato tanto nonché l'amico Germano che vedo qui in arte Duccio che anche grazie a lui va ricordato è iniziato questa avventura e questa favola Anna Paola Mazzone, un'importante manifestazione per Silvi il premio per questi cantatori con una giuria presieduta da Mogol Sì sicuramente in questa manifestazione noi, tutta l'amministrazione ha creduto dall'inizio ormai sono il secondo anno, il 25 agosto realizzeremo questo evento che chiude un programma delle manifestazioni estive che ha un padrino d'eccezione, Mogol sicuramente uno dei protagonisti della musica leggera d'autore italiana noi ci auguriamo che questo evento in qualche modo porti il nostro territorio oppure dia al nostro territorio l'importanza che aveva un tempo questo evento ha due ambizioni, quindi quello di promuovere dei giovani cantautori ma anche quello di promuovere un territorio che tante volte è stato dimenticato non dimentichiamoci che Silvi vanta una delle ricettività turistiche maggiori di tutta la costa adriatica del sud quindi è un territorio che va valorizzato e conosciuto può essere una vetrina per portare tanti operatori a credere nella nostra zona e quindi sviluppare un turismo di qualità in una zona che effettivamente ha tutte le caratteristiche per offrire tale servizio concorso Canoro con una giuria d'eccezione nomi altisonanti della musica italiana che portano a Silvi i migliori talenti della canzone speriamo sia tutto così, tutto vero credo che il lavoro anche di preselezione è stato fatto bene perché è stato fatto da un signore che si chiama Dario Salvatori e in giuria avremo il responsabile di Sanremo Lab che è Massimo Cotto quindi il tutto lascia presumere che comunque al di là di tutta l'organizzazione la qualità della canzone, della musica sia ottima partendo da un'idea quasi folle l'anno scorso dare la cittadinanza anoraria a Mogol vedere la commozione di un grande della musica come Mogol nasce la seconda idea, quella di un concorso per giovani talenti ma se l'è voluta un po' lui perché il fatto di aver confessato che tra tutte le canzoni, qual è quella simbola che ricorda di più Silvi e lui ha detto la canzone del sole e quindi era automatico che lanciassimo quest'idea e il concorso si chiama La canzone del sole e poi premio Silvi, virgola, città di Mogol perché dall'anno scorso Mogol è cittadino onorario di Silvi è il momento anche per pensare al prossimo passo e quindi a un gemellaggio sempre più stretto con Sanremo dove vivono tra l'altro molti abruzzesi dobbiamo recuperare l'Abruzzo in tutto il mondo perché tutto ciò che l'Abruzzo ha seminato è giusto che dia poi i frutti e quindi un seme dell'Abruzzo anche da parte della zona di Silvi di Città Sant'Angelo, tutta la Vallata del Tavo sta a Sanremo Sanremo è per antonomasia la patria della canzone italiana speriamo di stabilire un ponte anche attraverso Massimo Cotto che sta al Sanremo Lab e poi quello che Diorra del Tavo